Per un eroe che termina la sua missione... È un po' triste, ma... è anche uno spazio. Un altro deve ancora iniziarla. Arrivano nuove avventure. Oltre ogni limite. In prima serata, in esclusiva. Si chiama Venerdì Cinema. Non è il solito film. Tutti venerdì alle 21 e 25. Solo su cielo. Oltre ogni limite.